Chiamo a pregare, perché? Che potete cambiare il vostro cuore di pietra. Non c'è in farmacia modo e una medicina che mi cambia il cuore. Devo inginocchiarmi, Signore. Devo iniziare a fare digiuno. Devo iniziare a obbedire Dio. Io non posso avere Dio come io voglio e metterlo che mi obbedisce, no. Lui è chi parla e nell'umiltà può sentire ognuno di noi. Attraverso la Madonna Dio parla, 42 anni e 3 mesi. Che cosa tu hai udito da questo parlare, 42 anni e 3 mesi? Allora, che cosa tu sai che Yahweh, che il Signore ha detto? Profeti nella Bibbia dicono, il Signore ha detto. Non si dimentica, scrivono e leggono al popolo, popolo. Allora, protegge, difende, custodia nel cuore. Il nostro cuore di pietra, il nostro cuore delle spine, il nostro cuore come...